Buongiorno, finalmente siamo ritornati in Italia. Siamo esattamente a... Ok, manca pochissimo da Roma. Ringraziando i nostri autisti, sono stati bravissimi. E anche la Sieris. Facendo un augurio alle donne, quindi tanti auguri alla nostra tifosa. Due domande. Vogliamo testare gli umori? Siamo stanchi ma felici. Felici per questo? Sì, sì, è stata bellissima. Il primo partito è stato bello in piazza, tutti quanti insieme a sostenere il relato. È bellissimo, è stato costantissimo. Speriamo bene per il ritorno. Bravo. E avanti così. No, là ci hanno messo in cassaforte questo... Questi erano, ora ci hanno messo a fare la partita in casa. E anche il cassaforte, quindi... Bellissimo risultato. Speriamo che non sia... Noi speriamo ancora. Va bene, passiamo indietro. Grazie ragazzi.